buongiorno ragazzi eccoci qui nel nostro secondo giorno a santorini dopo il tramonto di ieri sera un'altra bellissima esperienza da fare qui a Ia è la passeggiata sugli asinelli che sono caratteristici della Grecia e vi saluto e ci aggiorniamo più tardi allora ragazzi il giro con le asinelli intanto ne sta arrivando anche un altro dicevo il giro con le asinelli è molto molto carino e molto caratteristico dura 10 minuti è una cosa molto veloce e costa 5 euro adesso facciamo un altro giletto a Ia dopodiché ce ne andiamo a Fira e poi stasera ce ne andiamo a Fira Stefani fa veramente molto carino salutiamo Ia ci rivediamo al prossimo anno va beh adesso ce ne andiamo a Fira va allora eccoci qui a Fira adesso ci facciamo un po' di street food in quel localino all'infondo che ci ha ispirato particolarmente ci faremo un bel giropita di pollo per rimanere leggeri un consiglio che vi do innanzitutto perché non l'ho detto ancora ma il consiglio che vi do per girare tutta quanta questa isola è quella di prendere il motorino perché ci sono anche i quoti sono le macchine ma troverete soprattutto a Ia tantissima fila e soprattutto il posto non lo troverete mai mentre come il motorino andate veramente molto tranquilli i cinquantini sono molto datati però il lavoro loro lo fanno e sulle strade state attenti perché ogni tanto ci sono dei piccoli tornati vi fermate li fate passare e poi andate in tranquillità io vado a mangiare che ho veramente tanta fame ragazzi quello che vedete lì in mezzo altro non è che la caldera del vulcano perché prima Santorini non aveva questa parte centrale formata da mare ma in seguito all'eruzione del vulcano gran parte della terra immersa sprofondò e questo è ciò che rimane e anche Fira ce la siamo vista e adesso ce ne andiamo in hotel e ci facciamo una luccetta veloce e poi questa sera torniamo a Fira Stefani una frazione di Fira che però è molto giovanile dove ci sono tantissimi e allora eccoci qui a Fira Stefani come vi dicevo prima questo è un piccolo villaggio che è stato incoperato a Fira e adesso noi ci andremo a mangiare qualcosa di tipico greco e vi faccio vedere anche un po' tutto quanto il posticino però prima il cibo è un po' tutto è un po' tutto è un po' tutto Il nostro giro a Fira Stefani termina qui è un giro molto veloce ma perché è proprio il paesino che mi sono state è piccolo e si gira molto facilmente e poi è collegato direttamente con la città principale che è Fira. Se il video vi è piaciuto vi invito a commentare, a lasciare il like e a condividere. Ci vediamo domani che ce ne andiamo a Naxos. Ciao a tutti! Grazie a tutti!